Aperipulpo è un concept assolutamente nuovo di aperitivo sul Gargano ed è sintetizzato nel suo claim Fish, drinks and music on the beach, o meglio, degli stuzzichini a base di pesce, dei buoni drink e della buona musica ovviamente in spiaggia e in una delle location più belle d'Italia, il Gargano, Vieste l'ultima componente, bella gente, quindi vi aspettiamo numerosi Mojito, Mojito Marino, una chicca forse il Mojito Marino, sarebbe il classico Mojito una variante con l'aggiunta magari di Salvia, Timo, Rosmarino anche poi abbiamo un'altra aggiunta quest'anno il Placente, Campari, Barbarocchino e Appatonica tutti fatti credo in una maniera giusta, anzi senza altro